Una stagione che entra nel vivo in tempo di distanziamento sociale, ma anche con progetti di rilancio e promozione turistica, Campomarino Lido pronta ad accogliere turisti e villeggianti con più servizi e iniziative, in una località che nel picco di agosto supera anche le 70.000 presenze e già nei fine settimana, visto i numeri lievitare non poco, la bandiera blu fa da sfondo le attività presentate dall'amministrazione guidata dal sindaco Pierdonato Silvestri, in Piazza Falcone si punta su Vivi Campomarino, disponibile anche con un servizio gratuito su WhatsApp e un infopoint innovativo messo a disposizione dalla EcoControl. Siamo pronti, abbiamo messo in atto una serie di iniziative a partire dall'infopoint, dai mercatini serali, dai divertimenti per i bambini, ci saranno dei conviabili, delle gioste per i bambini, a distanziamento sociale, sono pronte anche le spiagge Covid, abbiamo tutte le carte in regola per far decollare questa stagione. C'è una guida che viene chiamata Vivi Campomarino, la prima guida turistica che è a Campomarino, dove all'interno troveremo varie sezioni. Una rete condivisa con la regione, presente con l'assessore al turismo Vincenzo Cotugno, che ha ribadito l'impegno nel sostenere le attività di promozione turistica, anche attraverso il protocollo d'intesa Riviera Morisana e il piano di messa in sicurezza delle spiagge libere. È uno spirito un po' diverso, cerchiamo di rendere fruibile tutte le possibilità che ci sono offerte per questa stagione, quindi cerchiamo di dare al turista tutte le informazioni necessarie, quindi con una struttura nuova, con uno spirito nuovo e con la collaborazione, devo dire, fattiva della regione che ci sta sostenendo in tutto questo. A Campomarino la deputata Anna Elsa Tartaglione, rappresentanti dell'amministrazione, un percorso condiviso anche nel settore dell'ambiente in un contesto naturale ancora incontaminato. Prevede la ricarica delle bici elettriche e praticamente ogni cinque bottiglie di plastica che verranno messe nel contenitore ci sarà dato gratuitamente un litro di acqua. Abbiamo dato il nome alle spiagge, abbiamo da poco messo in funzione anche Bosco Fantine, che è un punto dove noi vogliamo valorizzarlo al massimo.